eccoci qua buonasera a tutti siamo vi do il benvenuto alla prima al primo aperi pelagos siamo in compagnia della responsabile delle ricerche sui cetacei che tetis conduce proprio nel santuario pelagos dedicato ai lo hai alla conservazione la tutela dei cetacei con la dottoressa sabina iroldi quindi questo è il nostro primo incontro l'apertura di questo bellissimo progetto aperi pelagos e parleremo proprio con la dottoressa iroldi delle specie di cetacei che abbiamo nel mediterraneo in particolare nel santuario pelagos quindi grazie sabina per aver partecipato e per accompagnarci in questo meraviglioso viaggio e lascio a te la parola per parlarci queste stupende specie grazie mille a te laura per l'invito a tutto il il wwf è come dire veramente un onore aprire questi questi aperi pelagos che mi sembra un'idea carinissima insomma queste pillole dedicate a una delle nostre straordinarie realtà che sono quelle dei mar mediterraneo dei cetacei e ovviamente anche del santuario pelagos guarda io inizierei subito a farne vedere queste specie perché come come ci ha già detto che ho sentito l'intervento molto interessante molto bello della dottoressa costanza favilli segretario esecutivo dell'accordo pelagos che quindi ci ha già insomma già introdotto ha detto che ci sono otto diverse specie regolarmente avvistate all'interno del nostro mediterraneo e del santuario pelagos e anche come vedremo qualche specie che viene definita accidentale che come dire ogni tanto viene a fare una capatina nel nostro mediterraneo che ricordiamo è un po come fosse un oceano in miniatura quindi anche a lui è perfettamente dedicato insomma questa giornata quindi ce n'è anche insomma qualcuna che che entra anche in questo nostro mare di inusuale quindi così ti proporrei se sei d'accordo di vederci dura poco più di due minuti un video che e te ti sa prodotto in collaborazione con il WWF o meglio il WWF ha prodotto in collaborazione nostra e noi abbiamo dato una mano in qualche immagine che proprio sul proprio su pelagos in cui si possono vedere tutte le otto specie diverse che poi magari così su cui andremo a fare una breve chiacchierata su ognuno però direi se sei d'accordo di andarcelo a vedere quindi assolutamente sì allora qui vediamo se mi assiste la tecnologia e non facciamo confusione allora io aprirei fatemi aprire allora prima faccio lo share screen decido dunque uno eccoci e andrei con il video ecco qui buona visione ciao 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 che meraviglia che bellissime immagini devo dire molto molto belle molto suggestive insomma e come giustamente si diceva aspettate che devo bloccarlo ecco vediamo se riesco a chiuderlo definitivamente perfetto e come dicevo come diceva insomma il nostro mediterraneo è il nostro futuro perché sappiamo che dipendiamo dal mediterraneo dipendiamo dal nostro mare quindi non solo gli abitanti cetacei e tutti quelli che sono all'interno ma insomma come sappiamo tutti quanti tutti quanti noi in questo video anche se per pochi secondi abbiamo avuto la possibilità di vedere un po tutte le otto specie quindi nella loro forma il loro dinamismo e so che non abbiamo tanto tempo che devono essere pillole per cui ho pensato semplicemente di dedicare di parlare insomma un po abbraccio dedicando magari un paio di immagini con una diciamo con una presentazione vediamo adesso dunque qui metto sotto allora metto sotto tutto vediamo se riusciamo a farvi vedere allora faccio ancora un un share screen apriamo questa presentazione ecco qua allora e così ho pensato Laura se pensi sia una buona idea sostanzialmente di di prendere per mano chi in questo momento prende per mano o meglio di caricare sulla nostra barca da ricerca che partiamo da Sanremo la nostra diciamo base storica ricordo che noi abbiamo iniziato 33 anni fa ad andare in mare a cercare i cetacei a a scoprire quanti erano dove erano quali specie come erano distribuiti perché eh più di trenti trentis nasce trentaquattro anni fa quindi è veramente eh a quel tempo gli unici dati disponibili erano quelli relativi agli animali spiaggiati ma quali fossero le specie in mare e e come fossero distribuite quanti fossero non si sapeva nulla quindi abbiamo fatto un po siamo stati un po pionieri e eh abbiamo iniziato nel 1987 a pattugliare tutti i mari italiani e quando poi siamo arrivati su nella zona del ponente ligure e o meglio nel bacino corso ligure provenzale lì ci siamo resi conto che quello era un posto che pullulava di cetacei rispetto ovviamente a tutti gli altri mari e quindi ci siamo resi conto della straordinaria concentrazione ehm di cetacei in quell'area e nel 1990 e 91 il fondatore di Tetis Giuseppe Notalbato di Sciara ovviamente ha ehm ha proposto il progetto Pelagos a con con l'aiuto del del dell'associazione Rotary del WWF di molte altre associazioni che hanno come aiuto dare dato forza alla proposta dell'istituzione di una un'area protetta nel proprio nel Pelagos e infatti come sappiamo poi insomma nel 99 finalmente eh nasce diciamo si appone la firma che dichiara la nascita del del santuario Pelagos ecco io vorrei adesso prendere tutti voi in una decina di minuti molto velocemente ma uscire in mare e vedere insieme che cosa si scopre appena noi lasciamo la costa ecco questa immagine eh ci fa vedere il il torsiope che è forse il delfino un po' più conosciuto dai più classico flipper per chi è un po' agi come me e da ragazzina insomma vedeva vedeva i telefilm ed è comunque la specie eh diciamo più presente purtroppo per per lui eh negli acquari perché è quello che meglio si adatta eh diciamo alla cattività insieme all'all'orca ed è la specie nei mari italiani e in Mediterraneo in assoluto più costiera eh tanto che insomma i vari studi che sono stati fatti e cui hanno collaborato veramente moltissimi eh enti eh di ricerca in Mediterraneo hanno dimostrato che insomma eh diciamo che le battimetriche difficilmente superano i eh la mette la profondità dei duecento metri quindi stanno veramente vicinissime alla costa. Poi abbiamo visto in questo periodo di pandemia quanti sono stati i eh i video passati sui sui social qualcuno anche fake eh rispetto a zona ma di questi torsiope che entravano nei porti e si avvicinavano veramente in maniera incredibile quindi eh sono veramente gli animali in assoluto più più costieri lunghi fino a quasi tre metri circa tre metri possono raggiungere e ehm li vediamo piuttosto come dire non dico tozzi insomma ma dalla forma piuttosto ehm tozza rispetto come vedremo ad altri delfiniti che tendono a essere un pochino più longilinei e più eh sottili. Mi raccomando Laura se tu hai eh qualche informazione o qualcosa che vuoi aggiungere tu interrompimi perché sei una collega magari io nel nel cercare di rispettare i tempi magari salto un po' qualcosa quindi tu mi raccomando fermati. Pena fuori quindi sulla piattaforma continentale tra zero veramente a pochi metri dalla spiaggia tant'è che a volte lo si vede anche dalla pista ciclabile o mentre si prende l'aperitivo eh il torsiope vicino alla spiaggia eh ci allontaniamo invece raggiungiamo la cosiddetta scarpata continentale cioè dove la profondità dell'acqua va dai duecento metri fino ai duemila metri di profondità. Qui a circa tra gli ottocento e i mille e i mille duecento metri di profondità ci sono i grampi. Questo strano delfino tutto graffiato che a differenza degli altri eh delfini di o della maggior parte delle altre città c'è i graffi scompaiono invece in lui rimangono eh che si procura sostanzialmente mordicchiandosi attraverso insomma interazione sociale. Bene questo è un è un delfino straordinario eh lungo che può arrivare diciamo ai tre metri e tre metri e mezzo di di lunghezza e ha una caratteristica purtroppo eh che qui nella zona diciamo del della parte occidentale del santuario Pelagos un animale che è sempre stato regolarmente avvistato diciamo dalla fine degli anni ottanta eh fino a cinque anni fa oggi è praticamente quasi scomparso dalla nostra area di studio cioè noi da cinque anni noi colleghi francesi colleghi di cima non vediamo più questa specie. Adesso abbiamo qualche eh abbiamo avuto l'altro giorno un avvistamento una segnalazione da parte di un pescatore ma insomma ci preoccupa molto il fatto che in qualche modo abbia abbandonato la nostra area di studio. Si è spostato si vede spesso davanti a Genova si vede in altre aree e quindi stiamo cercando di capire come mai questa specie ha cambiato la sua distribuzione. e questa arriviamo alla Stenella. La Stenella è in assoluto eh il delfino nel cetaceo più abbondante in tutto Mediterraneo e compreso anche eh ovviamente il santuario Pelagos dove eh diciamo i survei aerei eh condotti da Tetis insieme a Ispre finanziati dal Ministero dell'Ambiente dall'IWC e quindi da vari enti che hanno supportato eh questi eh diciamo survei aerei hanno dimostrato hanno insomma la stima riportata per il santuario Pelagos per questa specie è intorno ai trentottomila individui eh in estate e quindi insomma veramente una presenza importante e massiccia nel nostro santuario Pelagos ed è la classico delfino che vediamo quando siamo in barca che viene a fare ball riding quindi ci accompagna eh un animale ehm sicuramente mh con una 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 straordinaria eh capacità eh da un punto di vista alimentare viene definito un generalista cioè è una di quelle specie che mangia tutto quello che trova esattamente il figlio che vorremmo tutti noi cioè che mangio qualsiasi cosa gli metti nel piatto stavo per dire ecco perché mi sento molto una stenella io perché comunque mangio quello che trovo in ogni caso esattamente io ogni tanto eh quando dico sempre che io sto alla stenella quindi l'animale che mangia tutto come mia sorella sta al delfino comune questo delfino che voi vedete qui ora che purtroppo comune non lo è affatto molto simile alla stenella nella forma ma di si differenzia dalla colorazione perché vedete che ha questo questo strano ehm questa forma un po' a clessidra sul fianco e lo si vede meglio poi in questa foto che eccola qua vedete c'è questa parte diciamo eh verso verso la testa eh che è un pochino giallastra quindi questa è la colorazione diversa e a differenza e dico dico devo dire eh purtroppo non è affatto comune nonostante il nome perché anzi è una specie che ormai eh considerata al cui ha subito un drastico un drammatico eh decremento numerico eh nel Mediterraneo in cui stiamo cercando eh naturalmente di capirne tutte le tutte le ragioni e tutte le cause e e sicuramente eh sicuramente probabilmente eh uno dei motivi è anche quello della dieta specializzata di questa specie eh che eh naturalmente probabilmente eh diciamo soffre di più patisce di più il il diciamo il depauperamento eh ittico cioè soprattutto di quelle specie di cui eh si si nutre. Andiamo un pochino più a largo quindi vi dicevo scusate i delfini comuni sono pochi ogni tanto se ne vedono mescolati insieme alle stenelle ma devo dire eh l'anno scorso e già quest'anno è arrivata una segnalazione anche nella zona nostra e Sant'Aliopelagos eh per la prima volta abbiamo visto dei gruppi interi di soli delfini comuni quindi anche qui è una esatta è una bellissima notizia che fa sempre pensare a questi comunque continui cambi di distribuzione quindi il mare ovviamente un un ambiente estremamente come dire in movimento che cambia e evidentemente eh quello che dimostra che anche chi ci vive si sposta e cambia la propria distribuzione. Ora arriviamo al predatore più grande al mondo il capodoglio grandissimo meraviglioso capodoglio ehm noi eh diciamo nel Sant'Aliopelagos eh abbiamo quasi eh solo maschi o meglio abbiamo avuto quasi solo maschi per molto tempo ma negli ultimi due anni hanno iniziato anche a farsi vedere diciamo qualche femmina coi piccoli quindi qualche piccolo gruppo familiare. Ora quindi anche qui vediamo una news prima solo maschi eh naturalmente noi eh il sesso di questi animali lo determiniamo dalle dimensioni dalla stima delle dimensioni perché sono superiori ai dieci undici metri massimo che possono raggiunti dalle femmine e loro li superano e quindi eh sono fra i pochi cetaci che hanno diciamo il dimorfismo sessuale nelle dimensioni quindi siamo in grado sostanzialmente dalla dalle loro dimensioni di eh indicare e di eh la loro diciamo eh il genere sessuale quindi il sesso. E ne abbiamo diciamo foto identificati tu sai benissimo diciamo per tutti gli altri che noi attraverso fotografando diciamo dei caratteri particolari come queste due chiazze bianche che vediamo sul sul lato e eh e la coda il margine queste queste eh della coda in realtà questa è una bella è una bella foto ma non utile alla foto identificazione nel senso che dal lato ventrale dalle tacche noi riconosciamo i singoli individui. Pensa Laura che noi abbiamo oramai centosettantadue individui foto identificati e la la possibilità di di identificare questi animali con delle semplici fotografie ci ha consentito eh condividendo i cataloghi con moltissimi altri eh istituti di ricerca presenti in Mediterraneo pensa di sapere che alcuni dei nostri capodogli che noi avvistiamo davanti a Sanremo sono stati visti nello stretto di Gibilterra. E un altro capodoglio questo lo devo raccontare che il 2 luglio scusate il 2 agosto del 1991 io chiamai Sabi perché l'ho visto tanti anni fa e decisi di chiamarlo Sabi perché noi diamo anche dei nomi oltre che dei codici eh dopo veramente tantissimi anni eh ho scoperto che in realtà Sabi eh si chiama adesso Odiseas è in Grecia ed è un enorme maschio studiato dal dal dai diciamo dai ricercatori greci che si è trasferito sostanzialmente nella zona dei gruppi familiari quindi delle femmine con i piccoli laggiù. Quindi quante poco qualche fotografia quante interessantissime ehm informazioni può dare. Certo. Scusami se ti interruttavo. Volevo ricordare a chi ci ascolta che la foto identificazione è un argomento talmente importante che aiuta tantissimo la ricerca e quindi anche la conservazione di questi animali che abbiamo dedicato proprio uno dei prossimi a Peripelagos proprio alla foto identificazione perché la collaborazione tra diversi enti di ricerca e il poter mecciare queste fotografie ci permette di capire anche che tipo di vita fanno gli animali quindi se Sabi da Giovincello passava le sue stati nel Santuario Peragos a giocare con i suoi coetanei adesso ho visto bene di andare a fare una capatina in Grecia nei gruppi con femmine cuccioli mica scemo insomma quindi è importantissimo sapere grazie alla foto identificazione il percorso che fanno questi animali nel bacino del Mediterraneo. Esatto la foto di veramente dà tantissimo informazioni fondamentali e qui passiamo quindi lasciamo lo slope o comunque insomma ci allontaniamo ancora un pochettino e troviamo un altro animale che ama che definiamo i deep divers cioè un altro animale che ama andare tanto sott'acqua un altro campione di apanea che è lo zifio un animale veramente strano caratteristico perché non ha denti tranne i maschi adulti che hanno due denti che gli escono da fuori un po' un cinghiale ed è veramente un animale stranissimo molto schivo di cui devo dire insomma i colleghi di cima ci sono insomma i colleghi che hanno la fortuna di incontrarne molto e stanno veramente conducendo studi approfonditi e interessantissimi su questa specie che nella nostra area di studio incontriamo molto poco perché noi siamo un pochino più opponente e loro invece sono distribuiti un pochino più elevante rispetto alla nostra area di studio e quindi noi devo dire ne vediamo pochi a questo punto siamo in alto mare area pelagica area pelagica e incontriamo quelli che come dire fra i più amati diciamo i più amati perché questi animaloni che sono raggiungono i 5 6 metri sono veramente tra ma no cioè loro schivi non sanno neanche cosa significa sono curiosi come delle scimmie appena noi arriviamo questa la barca ferma ma sempre quando li incontriamo si mettono intorno a noi e non c'è modo di andarsene cioè tu guarda questa foto dopo che le abbiamo foto identificati abbiamo preso le respirazioni abbiamo sai quando diceva ora ho finito gli ho fatto il video e vi spostate che ce ne dobbiamo andare dobbiamo trovare altri cose e spesso nei piccoli per cui ci facciamo anche spesso piano c'è lo skipper Paolo Robi che dicono no ma aspetta io ho paura che dopo piano piano e loro ci seguono ci seguono quindi sono veramente animali bellissimi lo zifio se se posso permettermi un po bruttarello una curiosità sullo zifio però molto carina e che cambia colore con l'età no quindi nasce scuro e come a noi diventano i capelli bianchi anche lo zifio bianca con l'invecchiamento la bellissima immagine come vedere prima che era completamente un stato un individuo tra i 60 e i 70 anni come quello che succede soprattutto con anche con i grampi perché i grampi proprio diciamo la colorazione bianca dei grampi è dato proprio dall'accumulo dei graffi e laura secondo te fra una femmina e un maschio agé di grampo ma chi è che sarà quello più massacrato e più bianco così buttata lì che dici tu che si mena di più fra i maschi ma così andando sarà un caso anche in questo caso guarda caso chi come dire interagisce in modo come dire aggressivo maggiormente anche in questo caso sono dei maschi allora siamo in acque pelagiche e arriviamo alla regina dei nostri mari quella che costanza famiglia ha definito la nostra mascotte che veramente un po la regina del santuario la regina del mediterraneo la balenottera comune l'animale più grande al mondo secondo solo la balenottera azzurra e quindi parliamo di una cosa che è tipo sette piani un palazzo di sette piani quindi più di 20 metri e pesante 60 tonnellate e noi di questi di questi animali devo dire nel santuario pelagos con le stime diciamo numeriche quindi fatte a seconda degli anni perché andiamo da 900 individui degli ed è l'inizio degli anni 90 ai 150 200 individui in estate di adesso quindi anche lì dei numeri che variano di anno in anno però direi che è veramente una di quelle presenze regolari del nostro del nostro mare soprattutto in estate si concentrano anche se abbiamo visto con i tag satellitari che molti di questi animali rimangono ovviamente anche nel nel periodo invernale ecco questo tanto per avere un'idea la nostra barca è 21 metri questo insomma ecco considerando insomma che dobbiamo andarci che qui c'è la punta vedete il mio cursore qui c'è la punta e qui c'è ancora tutto il codone è vero che la barca è dietro quindi però insomma questo fa capire un pochino quanto e in questo caso noi siamo fermi a volte anche le diciamo anche le balenottere sono si si avvicinano molto e ogni tanto tutti dicono ma quanti animali ci sono a livello mediterraneo allora finalmente devo dire finalmente dopo tantissimi anni ACCOBAMS quindi l'accordo per la conservazione dei cetacei nel nostro mare mediterraneo ha ha fatto il hanno fatto questo survey questo ACCOBAMS survey initiative in cui eh grazie a una serie di survei aerei in tutto il eh in tutto un gran parte del Mediterraneo a parte le zone che c'erano precluse nel sud del Mediterraneo per motivi politici strategici eh abbiamo fatto finalmente questo eh questi primi eh questo primo survey a livello di bacino di cui i primissimi preliminari eh dati sono stati presentati dal presidente di tesis da Simone Panigada al all'ultimo ehm eh annual conference annual della della European Citation Society e quindi insomma quelli però appunto erano dati ancora preliminari siamo tutti in attesa eh dei dei dati definitivi che eh ovviamente fornirà ACCOBAMS. Due parole sulle specie accidentali la megattera eccola qua eh e dico solo quelle le due che sono c'è le tre specie che sono entrate l'anno scorso nel nostro Mediterraneo perché naturalmente ce ne sono veramente tantissime di specie accidentali che come dicevo entrano e a volte escono a volte a volte muoiono nel nostro Mediterraneo. Comunque la megattera che si è messa a saltare fuori Genova l'anno scorso era era a Napoli. Napoli a parere legata con le barche. Esatto come come esatto come nel golfo di Napoli eh l'anno scorso avanti a Napoli anche un'altra zona si sono presentate le pseudorche. Qui sono in una bella immagine insieme a Montursiope perché così fa capire un pochino la differenza eh diciamo di queste pseudorche eh e e questo devo dire anche è stato estremamente interessante e qui non ho non ho messo le foto perché credo che non abbiano non ha insomma non non ci sia bisogno di una foto per parlare delle orche eh quindi delle orche di questo gruppo di orche eh che devo dire eh di cui adesso è stato anche scritto un libro insomma ci ha eh devo dire impegnati eh emotivamente fisicamente verbalmente in tutti i modi per mesi eravamo tutti concentrati su dire. L'avvistamento è caduto in corrispondenza della conferenza annuale sui cetacei quindi eravamo tutti a Barcellona ma tutti con la testa concentrata su questo meraviglioso. Esatto lo sai che Laura io a Barcellona sono diventata praticamente una stalker di tutti i più grossi diciamo studiosi di orche non del Mediterraneo per cui andavo e mi presentavo salve buongiorno solo perché cioè questi mi guardavo ma questa non studia le orche questa non l'ho mai vista chi è insomma quindi proprio per fare quello quindi e con tutte le dirette devo dire con insomma abbiamo avuto con il enorme veramente preziosissimo aiuto della guardia costiera eh e tutti gli istituti di ricerca italiana almeno eh della zona io veramente non ho mai avuto eh un'occasione così straordinaria perché tutti i ricercatori che insomma siamo quattro gatti un po' in Italia non siamo molti cetologi ci sono veramente messi tutti a lavorare insieme a collaborare per cercare di dare una mano e poi di fornire ovviamente i dati a eh eh diciamo a a chi eh a chi punto gli islandesi a tutti coloro che avevano già avvistato queste eh questi animali e quindi gli abbiamo andati. La storia non è finita molto bene per loro quindi speriamo che eh se se insomma i prossimi ingressi di orche eh siano insomma un pochino più eh fortunati. Ecco io vi la vi lascio solo adesso con una foto delle mie dei miei ragazzi di bordo quindi una piccola rappresentante di di Tettis e credo di dover finire qui perché se no parlo e non finisco più. Eh e vediamo se c'è. C'è così eh. Eh sì. Non si vuole mai finire alla fine. No 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 della serie o le mettete una mela in bocca o quella non smette di parlare e quindi eh sostanzialmente dimmi tu se c'è qualche domanda eh sono sono qui ancora a disposizione ovviamente molto volante. Allora non sono state fatte domande ma lasciamo ancora un paio di minuti se c'è qualcuno di voi che ci ascolta che vuole fare qualche domanda la può scrivere direttamente nei commenti e noi siamo qui per rispondere. Intanto grazie Sabina perché la tua presentazione non solo è stata molto interessante ma molto comprensibile per tutti e eh anche sulle orche ci sarà un approfondimento fatto da diciamo chi eh è stato molto molto sul campo con loro che sono i ricercatori di Mancab che ci racconteranno un po' sia qualcosa sulla specie delle orche ma anche proprio del viaggio che hanno fatto le orche dall'Islanda fino al Mediterraneo quindi eh approfondiremo questo argomento e tra le specie occasionali volevo solo ricordare anche la balenottera la balenottera minore brava che è stata avvistata prima eh nel porto di di Ostia e poi purtroppo è stata ritrovata spiaggiata nel sulle coste di Fregene. Le specie occasionali. Certo e c'è no scusa ti volevo dire nella mia scusa. Attenzione è stata vista è passata anche dal santuario Pelagos una balenottera minore pochissimi giorni fa. Esatto proprio proprio davanti a ehm vicino a Santo Stefano Mare davanti eh proprio insomma vicino a noi sì proprio proprio da noi quindi no 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 su da noi. Ah su giusto. Sì 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 no no è stata proprio avvistata è stata proprio avvistata credo una decina di giorni fa eh da un da un diportista solo insomma poi abbiamo visto le immagini e le foto e io all'inizio ho detto uh cosa ci fa questo ziffio sotto costa e poi sul cellulare poi un attimo. L'ho guardato bene faccio ops no è un'altra balenottera minore. Ci siamo ci siamo chiesti se fosse eventualmente la madre di quel cucciolo morto questo purtroppo non non lo sapremo mai però insomma diciamo un cucciolo della Ostia e un altro individuo presumibilmente adulto in questo caso dalle dimensioni riportate invece era eh era davanti il ponente d'Igore quindi anche questo è stato estremamente interessante però non avevo immagine perché il video era veramente di questo. Abbiamo una domanda ci chiedono se c'è il passaggio delle balene franche nel Mediterraneo. Delle balene franche? Il passaggio? Sì che io sappia non ci sono viste in bibliografia su balene franche nel Mediterraneo. Ah no no direi. Perché vederle non è così facile. Allora in questo momento non posso escludere che ci siano stati diciamo avvistamenti o spiaggiamenti negli ultimi 200 anni eh di diciamo di balene franche però che io sappia recentemente non ho mai sentito di nessun avvistamento del Mediterraneo però ripeto potrei dire come dire peccare di ignoranza in questo caso però sicuramente non parliamo di passaggi di rotta migratoria diciamo che è escluso il Mediterraneo dagli spostamenti. Noi sappiamo che di solito i cetacei, i grandi cetacei, i misticetti fanno di solito queste escursioni, queste rotte migratorie nord-sud per andare ad alimentarsi nelle zone più fredde e più ricche e spostarsi tendenzialmente molti di loro poi invece nelle acque più calme e tranquille per partorire ed accoppiarsi ecco però diciamo che il Mediterraneo non è compreso in queste rotte migratorie delle balene franche. Bene io Sabina ti ringrazio proprio di cuore è stato un bellissimo intervento e spero che anche chi ha partecipato insomma abbia imparato qualcosa sui nostri meravigliosi cetacei quindi tutte le informazioni ovviamente noi ricercatori siamo sempre a disposizione abbiamo la pagina Facebook del WWF, abbiamo la pagina Facebook di Tetis quindi qualsiasi domanda eccetera a noi non fa altro che piacere e speriamo di incontrarci presto in mare per dopo tutte queste immagini vogliamo andare in mare quindi auspichiamoci che insomma io veramente spero che questi problemi della pandemia inevitabili insomma tutte le restrizioni ovviamente necessarie in qualche modo però a un certo punto ci consentono di tornare in mare a fare il nostro lavoro esatto bene io vi saluterei, vi darei l'appuntamento a giovedì per il prossimo Peripelagos ringrazio ancora Sabina per questa bella presentazione e a presto grazie ancora per aver partecipato ciao a tutti, ciao a voi ciao ciao a tutti 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 Grazie a tutti